Allo stadio comunale dal Contres Barone di Barcellona Pozzo di Gottoli, Gia Virtus del tecnico Giacomo Tedesco perde contro la Cireale del neotecnico Pippo Romano con il risultato di 0-2. Barcellonesi, ultimi assieme a Rotonda e campionato sempre più in salita. Padroni di casa pericolosi con Lancia, Miuccio e con il neoacquisto Percovic, accesi ordinati e solidi con Aprile in grande spolvero e padrone assoluto del centrocampo. Al venticinquesimo cetrangolo esce a vuoto e ne approfitta Manfrellotti che porta in vantaggio gli ospiti. Agravovic e le piane sprecano due gotte occasioni per pareggiare, mentre Percovic dimostra di essere un calciatore di assoluto spessore, ma si torna negli spogliatoi sul punteggio di 0-1 a favore della Cireale. Nella ripresa, Tedesco manda in campo De Marco e Mangiole e toglie cetrangolo e Miuccio. Percovic è bravo a lanciare le piane prime e velar di poi, ma i barcellonesi continuano ad essere poco lucidi e ne approfitta la Cireale a due minuti dal termine del match. Altra uscita errata, questa volta di De Marco, con l'ex messinese Madonia che deposita la sfera in rete, chiudendo l'incontro sul risultato di 0-2. Domenica prossima i giallorossi affronteranno il Rotonda, fanalino di coda del girone di Serie D, proprio con l'Igea Virtus. Domenica prossima i giallorossi affronteranno il Rotonda, con l'Igea Virtus.